Giudici della giustizia minorile in mondo della scuola superiore Aquilana e Teramana oggi a confronto a Lancia in un momento di riflessione e dibattito sul tema della riparazione, riconciliazione e ricostruzione del legame sociale infranto, parole che sono alla base della giustizia riparativa. In tempo di pandemia i reati dei giovani di natura informatica sono aumentati, ma nel post anche gli episodi di violenza nelle relazioni, dati che snocciola la presidente del Tribunale dei Minori, la dottoressa Cecilia Angrisano. Per quello che riguarda il periodo proprio strettamente del lockdown, sono aumentati i reati informatici, quelli commessi online ovviamente, e immediatamente dopo la fine della pandemia abbiamo avuto purtroppo, come tutti gli anni, un ritorno a fenomeni in cui la violenza nelle relazioni è la cifra principale. Giornate come queste ci insegnano che è veramente possibile cambiare e riparare, come dicevo all'inizio, la giustizia minorile mi irà a trasformare, ma nel trasformare i ragazzi, nel consentire a loro stessi, come hanno fatto oggi, dimostrare quelle parti di sé che sono le parti anche della fragilità, della tenerezza, della autocommiserazione delle volte e anche della capacità d'amare, tutto questo viene eseguito dal Tribunale e dagli operatori e si trasforma in una possibilità di cambiamento. La scuola è necessariamente il contraltare di questo, è perché tante delle storie dei nostri ragazzi vengono anche vissute e agite nei contesti scolastici, e perché l'inclusione di quelli che come i nostri spesso vengono da vicende marginali, da storie marginali, essere accolti, inclusi in una scuola che diventa più consapevole della necessità che ci sia un posto per tutti e che a tutti si possa donare una relazione affettiva sana è un modo fondamentale per la prevenzione dei reati commessi dai minorenni. Un incontro organizzato dall'Ufficio regionale di servizio sociale per i minori, con annesso centro di accoglienza, in collaborazione con il centro di giustizia minorile Lazio, Abruzzo e Molise, i magistrati del mondo della scuola si sono confrontati su percorsi da mettere in campo e sul valore dei concetti di riparazione. In Italia il settore della giustizia minorile è stato pioniere in questo senso, con importanti successi nel campo della prevenzione, ma è stata una mattinata anche di arte e cultura, con la collaborazione della Lanterna Magica e con lavori presentati e premiati, fatti dai ragazzi, canzoni e testi straordinari. Lance ha presentato pure l'opportunità di percorsi formativi e lavorativi nel campo delle arti e dello spettacolo, che verranno attuati dall'ESE CPT.